Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Iniziamo qui sopra perchè ragazzi mi volevo fare un bel bagno caldo Quindi andiamo a fare il bagno E niente, ora storò un po' qui, mi farò il bagno E cosa avete da guardare? Eh? Non posso farmi un bagno? Nah avete ragione, non è per questo che sono qui E' perchè oggi parliamo ancora di test Dopo che nell'ultimo episodio sono riuscito in una maniera carambolica Se si dice questo termine Comunque è stato incredibile e improvviso Siamo riusciti ad ottenere la testa dello zombie Siamo vicini al completamento della mia collezione Tra l'altro mi avete detto più di una persona Ma Eren, perchè non attacchi la testa direttamente sul muro Anziché sull'item frame? E voi avete perfettamente ragione Ma qui ho messo solo item frame E un po' mi stonava la cosa E poi mi è venuta in mente un'altra cosa grazie a questo commento Vale a dire che effettivamente c'è una sesta testa ragazzi Non l'abbiamo considerata ma c'è una sesta testa Che è la carved pumpkin Che potrebbe essere un po' la testa dello snow golem E che noi comunque possiamo indossare Quindi vale come testa Se io le mettessi sulla parete Questa testa sarebbe un vero e proprio blocco Mentre le altre no, è un po' stonerebbe Però comunque sia Le metteremo tutte sulla parete Mentre nell'item frame Ecco Tra l'altro ho buggato tutto Perchè l'ho messa nel punto sbagliato Stavo dicendo che nell'item frame Questa testa Sarebbe come le altre Perchè vedete la metto lì Ed è come le altre Non mi ricordavo più sta cosa Ma effettivamente all'epoca avevo ragionato anche su questa cosa qui Perchè abbiamo la testa del drago Che comunque è diversa dalle altre Quindi un po' si perde quel senso di orno Comunque parlando di teste Oggi mi voglio occupare proprio di trovare un luogo più adatto a questi tesori Me lo avete chiesto in molti E ho deciso di accontentarvi Faremo un tempio delle teste Dove lo costruiremo questo tempio delle teste? Ragazzi Esiste già Semplicemente Ed è una vecchia idea Che sto riciclando Ma che all'epoca avevo scartato Il problema è che non mi ricordo più perchè l'avevo scartata E adesso ripensandoci mi piace Se il tempio delle teste Lo facessimo nella testa Della mia statua gigante Concettualmente a senso Mi sembra un'idea anche carina E fattibile Perchè Non ricordo perchè l'avevo scartata Ma mi è venuta in mente Una cosa figa che si potrebbe fare Allora innanzitutto Allora qui abbiamo dei poppi Quindi vuol dire che è morto un altro iron golem Da sotto non ne sono spawnati altri Quindi non mi spiego perchè ci fossero quegli iron golem in libertà Cioè davvero non ne ho la più palida idea Ma sembrerebbe tutto fixato Quindi il problema non dovrebbe neanche esistere Comunque nel metere andiamo a prendere dei blocchi Perchè iniziamo subito a fare Quello che ho intenzione di fare Questo mini progettino Vi voglio dire Della farm dei droned Perchè ce ne siamo scordati tutti La farm dei droned Abbiamo iniziato a costruirla tempo fa Eravamo Solamente all'inizio effettivamente Non abbiamo fatto un granché E poi con tutte le novità Le cose da fare Abbiamo un attimino Lasciato perdere Che cosa è successo? Non è successo un bel niente essenzialmente Fatemi prendere anche un attimo Della sabbia È successo che La farm di droned Mi serviva per ottenere due cose Le conchiglie Cioè le nautilus shell E il tridente Sono riuscito a trovare Entrambe le cose Farmando Con molta pazienza Ma ce l'ho fatta Quindi la farm Se mai la facessimo Non avrebbe più Il suo scopo primario Sarebbe solamente Tanto per averla Forse per il futuro E quindi ho perso interesse Nel costruirla sinceramente Vedo che nessuno Me la chiede più E effettivamente Non ci serve più Questa è L'amara verità Quindi ragazzi Ho preferito Dedicarmi a questo progettino Per creare Un tempio delle teste E tornare a sfruttare la statua Questa cosa mi piace molto Allora Innanzitutto Mannaggia gli enderman Che mi tolgono i blocchi di terra Ovunque Come seconda cosa Ragazzi Dove la facciamo Questa cosa Questo progettino Voglio appunto Mettere le teste Nella testa della mia statua Per arrivare lì Non volendo bucare In alcun modo La statua L'unico modo È entrare Dal piedistallo Ma non voglio neanche Rovernare il piedistallo Perché è molto carino È molto articolato Vedete Quindi ho pensato Di unire Questa cosa All'idea di un passaggio segreto Che avevamo elaborato Nelli snapshot Della 1.13 Che è una cosa Anche molto usata Vale a dire Un passaggio segreto Di altezza 1 Dove entrare solamente Nuotando Vorrei provare Appunto A fare una cosa Del genere Quindi Per farlo Innanzitutto Mi conviene Aprirmi uno spazio Ed entrare Effettivamente Nel piedistallo In questo modo Per capire Almeno deve scavare Tutto quanto Non ci sono mob Vero? No Per fortuna È illuminato molto bene Qui siamo dentro La mia statua Che come vedete All'interno è cava Spero che lo sapevate Perché se non lo sapevate Sorpresa Dentro è vuota È normale Che sia così Per risparmiare blocchi E comunque sia Vorrei fare Un ingresso Più o meno In questa zona Ora dobbiamo iniziare A scavare In maniera Un pochino Grezza Ovviamente E cercare il modo Di fare Una sorta Di tunnel Che possa arrivare A bucare L'oceano Il problema È che Ecco Non vorrei far Crollare Tutta quanta La sabbia Quindi dovremmo Scavare Ok sono spuntato Da questa parte Ragazzi Mi è caduto Effettivamente Un po' di sabbia Potremmo Pensare di fare Una cosa Almeno di questo tipo Quindi mettiamo Un blocco Di sandstone Qui Che non dà Troppo fastidio Nel mentre Mi stai attaccando Davvero Ti sparo Un tridente Io ti Ti rovino Ti devasto Stupido Droned Comunque Dicevo Sistemiamo con la Sabbia Ok e questo potrebbe Già essere un ingresso Carino Perché arrivati a questo Punto Noi andiamo a Scavare tutto qui Arriviamo per dire Fino a questa posizione Creiamo un bel Contorno Di blocchi Di mattone Semplicemente Insomma creiamo Quello che potrebbe Essere una sorta Di canale antico Dove Non so un canale Di scolo Qualche Cosa Che potrebbe Ricordare appunto Una situazione Una Struttura antica E quindi Usiamo i mattoni Di pietra Che aiutano sempre A dare questa idea Soprattutto quelli Spaccati Arrivati a questo punto Dobbiamo continuare Ad alternare Le cose Magari mettiamo Tipo anche qui Uno scalino Giusto Vedete ho messo anche Degli scalini qui Giusto per non fare Tutto un tunnel Piatto E arriviamo Appunto Fino A questa zona qui Dove ci sarà L'uscita Per l'appunto Quindi qui mettiamo Per dire un altro blocco Così Ci mettiamo Un pezzo di sabbia E questa è la nostra Entrata segreta Quando noi Nuotiamo ragazzi Quindi attiviamo il nuoto Sono in questa situazione Devo sprintare E nuotare Quindi Control Spazio E si parte Perfetto Possiamo Entrarci Come vedete E arrivare qui Dove finalmente Alzo la testa E non ci vedo più Questo semplice tunnel Lo dobbiamo far salire Ovviamente Possiamo fare Semplicemente una cosa Che va su In verticale E arriva esattamente In quel punto lì Oppure lo facciamo Semplicemente Curvare un attimino E lo facciamo Arrivare Tipo in una posizione Un po' più comoda Che potrebbe già essere Tipo qui sotto Potrebbe già essere più comodo Ma direi di sì Quindi proviamo subito a farlo Dobbiamo scavare Ovviamente E continuare Questa trama Di blocchi Per poi arrivare A una colonna Verticale Nella quale Dovremmo salire Oppure scendere Quando vorremmo Uscire dal tempio Ovviamente Tutta sta roba Va anche riempita D'acqua Quindi ragazzi La struttura L'ho costruita Ovviamente ora Dovrò portare Dentro un sacco di bucket E riempire tutto D'acqua Tra l'altro Mi avete Consigliato L'altra volta Per l'ascensore Un trucco Per il quale Se noi mettiamo L'alga Nell'acqua che cola E la facciamo Crescere Genera in automatico Delle sorgenti E non so se è Una feature voluta Penso sia più che altro Un glitch Quindi di solito Sono un po' allergico A glitch Però Tenete presente Che è una Soluzione utilizzabile E un'alternativa Al portarsi Un sacco di bucket Oltretutto ragazzi Sia chiaro Che ora sto realizzando Questa cosa Ma ad un certo punto Voglio anche Completare La collezione di teste Quindi Appena ci sarà una tempesta Cercheremo di avere Anche la testa Degli scheletri O dello scheletro Ce ne basta comunque Una sola In questo modo Completerò la collezione E avrà anche Tutto quanto Più senso Perché per il momento Andiamo a fare Un tempio delle teste Però la nostra collezione È appunto Incompleta Ora Nuotando Andiamo a Infilarci Nel nostro tunnel Perfetto Ce l'abbiamo fatta Non andiamo più avanti Perché se no Mi Alzerei in piedi E non riuscirei più A Stendere l'acqua E comunque Come vedete Si creano le solite Sorgenti E questo ci permette Di prendere Bucket d'acqua E rimpiazzarli In modo da Finire il lavoro Quindi io qua Vedo ancora Acqua che scorre Ne dobbiamo mettere Un altro po' qui Perfetto Dobbiamo riempire anche Questi gradini Molto bene Ed eccoci qui ragazzi Abbiamo completato Anche la colonna Quindi che cosa succede Che quando noi Vorremo entrare Andremo in giro Noi sappiamo che abbiamo Il nostro passaggio segreto Quindi ci mettiamo A nuotare Effettivamente Troviamo L'ingresso Ci infiliamo In un solo blocco Di altezza Facciamo tutto il canale Arriviamo qui Saliamo E in questo modo Finiamo dentro La statua Ora Arrivati qui Devo cercare di In realtà Chiudere un po' tutto Perché così Non va per niente bene Quindi io direi Di creare Magari serviva più Il legno da bete Però ci saranno Comunque un sacco Di colori diversi Quindi chi se ne frega Andiamo a creare Una sorta di Salita In questo punto Anche qui Potevo farci Un ascensore Non fosse che magari In alcuni punti Rischierei di vedere Scocciolare tutto Non ci starebbe Per nulla bene E andiamo anche A chiudere già Il buco che abbiamo Fatto qui Perché non ci serve Già più Molto bene Ovviamente ragazzi Andiamo banalmente A mettere Delle scale Per salire Come vedete Dovremmo sfruttare La parete già esistente Che è fatta Dei blocchi Che vediamo da fuori Sono i blocchi Che compongono La statua La skin Della statua Quindi Sono a molti colori Sono disposti In modo strano Ma hanno un senso Visti da fuori Purtroppo Non posso fare Un rivestimento interno Perché Non c'è spazio Forse per questo All'inizio Non volevo fare Questa cosa Perché Era un po' strano Probabilmente Comunque Arriviamo fino In cima Non mi basteranno Le scale Quindi devo fare Un'altra Capatina Ragazzi Mentre finivo Di buildare Ho trovato Un ospite Nel mio cranio Ecco perché Ho già mal di testa Dannato Ma che ci fai qua Che cosa Cosa volevi fare Cosa volevi combinare Tra l'altro Ragazzi Ricordate che Avevo una freccia A cui ho dato un nome Dov'è finita Quella freccia Cos'è Mi stai dicendo Che se rinomino Una freccia E la lancio Questa viene lanciata Via E la consumo Anche se ho Infinity Perché non c'è più Me ne sono accorto Solo ora Ok Adesso cerchiamo Di capire Se è in una chest Comunque intanto Ragazzi Io sono arrivato Qui sopra Dove possiamo Chiudere tutto E qui siamo dentro Alla testa Della mia statua E Lo spazio È un po' quello che è Nel senso che è Irregolare Perché appunto La testa da fuori Ha una forma Irregolare Comunque sia In qualche modo Dovremmo Cavarcela E Riuscire A gestire bene Lo spazio Potrei cercare Di rivestire Internamente L'intera testa In modo da Non far vedere L'irregolarità Delle pareti Però sinceramente Non lo so Comunque ho già Adocchiato un luogo Dove poter mettere Le teste Che mi sembra Molto carino Ora Per quanto riguarda La freccia Quando l'avevo tirata Per prova Non l'avevo tirata Tipo Mica qua Da qualche parte Perché se appunto Si fosse consumata Cioè Consumata Non può essersi Consumata Nel caso Viene tirata la freccia E poi La puoi raccogliere Perché se non è Soggetta infiniti Rimane Incastonata Come oggetto Poi Raccoglibile Oggetto fisico Però Non la vedo Non so Che fine Abbia fatto Ragazzi Perché potrebbe essere Davvero qualcosa di triste Se fosse scomparsa In questo modo Non c'è più Mi sono accorto Perché ho provato A tirare con l'arco E non tirava E qui Non c'è Nessuna freccia Dove è finita La nostra freccia Non lo so Al che Facciamo un test Perché non sapendo Dove sia finita Noi possiamo provare A fare un piccolo test E a capire Come funziona sta cosa Se ci siamo persi Qualcosa oppure no Allora Io vado a mettere Questa freccia La chiamo arro Così semplicemente La tiriamo Quindi tiriamo la freccia E No no La posso tirare Quindi Non ha senso Che si sia Persa In qualche modo Qua rimangono incastonate Perché ovviamente Sono soggette a infiniti Se la vado a mettere Nella ceste Non si può accatastare Con le altre Perché è rinominata Quindi È in qualche cesta Non lo so Ragà la devo cercare Comunque ragazzi Ritorniamo subito All'interno del nostro Tra virgolette Tempio delle teste Qui potrei illuminare In maniera più regolare Volendo Però Vabbè Sono dettagli Di cui mi posso occupare Anche dopo Post rec Mentre qui all'interno Ho pensato Che la zona più adatta Per mettere queste teste Fosse proprio Questa zona qui Quella che Da fuori è il cappuccio E che da dentro Sembra una sorta di Piedistallo Con esattamente Sei slot Quindi ci stanno esattamente Le sei teste Io direi di cominciare Da quella più semplice La mettiamo Appunto qui sulla sinistra Che è la zucca Poi in teoria Vorrei mettere i tre mob Droppati Che dropperemo Con i Charger Creeper Perché uno L'abbiamo già fatto Ed è il Creeper stesso L'altro pure Ed è lo zombie In realtà però Lo zombie Mettiamolo di fianco Al Creeper Adesso vi spiego Anche il perché Lo mettiamo qui Qui metteremo Lo scheletro Quando riusciremo Ad ottenerlo E ragazzi Farò di tutto Per averlo Prima del Cinquecentesimo episodio Poi abbiamo Il Wither Skeleton Di fianco Allo scheletro E infine La testa Del drago Che è super ingombrante Qui ragazzi Avremo Le nostre teste Direi che non ci stanno Per niente male Mi sono portato Anche un po' di scale Così possiamo Non morire Ecco Una cosa di questo tipo È già carina Poi abbiamo appunto Le nostre torce E tutto quanto Io direi che Sì Possiamo provare A chiudere un po' tutto Con il legno Quindi avremo sicuramente Un ambiente Molto più piccolo Ma sicuramente Anche più ordinato Il che non guasta E ragazzi Con il poco spazio Che avevo Ho fatto questa cosa Molto semplice Ho provato a mettere Un po' di fogliame Per creare un po' di disordine Con le liane Ho messo i pot Con i cactus Perché ragazzi Mi state Dicendo che vi manca Il bardato e il pot E in questo modo Vi voglio dire Che non me ne frega Un cactus No sto scherzando ovviamente Mi ricordo dei pot Quindi un po' per onorare Le memorie Ho messo questi due pot Ho usato un po' di bottoni Con le betulle Giusto per Perché sono nuovi Quindi li ho messi Un po' a muzzo È un po' tutto fatto a muzzo Però è carino dai Perché qui abbiamo Gli slot per le teste Siamo dentro una testa Non sembra neanche più Quindi sono abbastanza felice Ora Devo fare solo due cose Mettere le torce E mettere dell'acqua là sotto Per non rischiare di morire Quando cadiamo Ma detto ciò ragazzi Direi che noi Qui abbiamo finito Quindi noi ci salutiamo Io spero che questo mini Tempio delle teste Nella testa Vi sia piaciuto Se è così lasciate un like E fatemi sapere nei commenti A presto ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti